Musica Dall'Olmi Plaza un coloroso saluto amici del campionato universitario Io sono Riccardo Leonetto e stiamo per assistere alla seconda giornata del girone B di Coppa dell'Università Fra International Bocconi, Squad e Arroganti Esatto per l'International in questa Coppa dopo aver perso il playoff Vorrà rischiettarsi già da stasera ma gli Arroganti hanno già dimostrato il loro potenziale Intendono continuare a stupire Passiamo alle formazioni con l'International Bocconi Con Caseres, Cambise, Schemerkick, Goering, Guerzoni, Cleissen, Matera, Modaber, De Sena, Eredia, Venezia, Vercella Poi l'Arroganti invece risponde con Broglia, Baselini, Derre, Dinallo, Gallo, Ghilardi, Pavet, Saracino e Incardona Ripartenza adesso, Matera, tiene il pallone, Matera Col Mancino, il vantaggio dell'International Con il numero 7 Matera Calcio di rigore, Ghilardi 1-1 il pareggio degli Arroganti Punizione, parte Modaber Col destro sul fondo Attenzione, altra parte la conclusione Esce il gran gol di Dinallo 2-1 Punizione, potrebbe essere l'ultima azione in questo primo tempo per pareggiare Che ha a disposizione l'International Bocconi Squad Caseres, la parata Del portiere, poi ancora la gran risposta Comincia la ripresa Che vede avanti gli Arroganti per due reti a 1 Pulizione dalla sinistra, al limite dell'aria, andrà Dinallo sul pallone Tutto pronto, si può procedere La conclusione deviata 3-1 Il bomber Dinallo, non delude Deviazione decisiva della barriera Conclusione di Matera 3-2 Ritorna in gara l'International Punizione dalla sinistra Tutto pronto alla battuta C'è Justin La conclusione Il pareggio dell'International 3-3 con Justin La raccoglie l'estremo difensore dell'International Dall'altra parte Pitti entra la testa Fa correre Matera, la mette in mezzo Palla deviata Si ricordina Shaver kick 4-3 International Rimesso da tirare per l'International Justin A cercare in aria Caceres Si gira Caceres Prova a passare Caceres 5-3 Caceres Di forza La testa Matera A cercare Caceres Troppo lungo forse il suggerimento Lo recupera lo stesso il 31 Sul fondo Viene fermato o no Pitti Mette in mezzo La girata di Matera Col mancino 6-3 E quasi sigillo Su questa partita Dinallo Dinallo Entra in aria Dinallo Sul fondo Caceres Si accettra Si va via uno Caceres Vince il rimpallo Col destro Caceres 7-3 E non c'è più tempo Finisce qui Vincono l'International Bocconi Squad Sugli arroganti 7-3